I più forti d'Europa e senz'altro per 75 minuti avremmo meritato di vincere la partita. Poi purtroppo non siamo stati premiati dal gol per qualche disattenzione nostra, per la traversa, per il centimetro che loro sono stati premiati alla prima volta. Questo è il calcio, il risultato è bugiardo, però questo è il calcio. Dovevamo essere bravi a fare un gol in più nei primi 65 minuti dove abbiamo fatto un ottimo derby. Poi purtroppo gli episodi ci hanno penalizzato e dobbiamo analizzare le partite che abbiamo pareggiato per episodi. probabilmente avremmo meritato altro, però il campo aveva detto questo stasera. Grazie. 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 Grazie.